Galta di Vigonovo, non soldi ma gioielli, la nuova rapina messa a segno in riviera del Brenta, presente in questo senso modalità analoghe a colpi precedenti. Il valore del bottino si aggirerebbe attorno ai 4.000 euro in monili. Ad entrare in azione per primo nella gioielleria di via Battisti, un uomo ha volto scoperto, per entrare infatti è necessario suonare il campanello e farsi aprire la porta dal personale. Una volta dentro, l'uomo ha aperto a due complici, loro si incappucciati e armati di pistola. La titolare è spintonata e caduta a terra, lussandosi una spalla ed è dovuta ricorrere alle cure del 118.